Siamo con Kenia Karkic, sta firmando gli autografi. Allora, Kenia, la solidarietà è per te di aver vinto il premio come miglior giocatrice, ma credo che la cosa più importante sia aver vinto una partita che non è stata facile. Dai, partiamo da questo. Sappiamo che non era una partita facile, ma penso che veniamo da un partito molto importante che è sotto la vittoria di Scandice. Piano piano stai registrando la battuta, a volte ne tiri ancora fuori campo, però quelle che tiri dentro... Sì, io penso che adesso è un altro processo, penso che stiamo lavorando tantissimo e penso che per questo è il risultato e sono felice. L'ultima cosa, la prima partita con Cassia, Scorupa, che vi ha mandato un po' tutti a schiacciare. La prima partita è sempre difficile, però credo che si sia visto che il gioco con Cassia è vario e voi attaccanti avete più possibilità. La prima partita penso che non solo con lei, ma con tutta la palliatrice è sempre un po' difficile perché si necessita di sincronizzazione, ma penso che sì, che non è andata male perché noi abbiamo preparato tantissimo per l'allenamento e niente, super felice. C'è un quarto posto, state risalendo la classifica, è un momento veramente positivo. Cosa vi chiedete in queste ultime partite? Di migliorare sempre o ci sono... Sì, sì, di migliorare sempre e niente, lavorare, lavorare, lavorare e penso che dopo arrivano al risultato. Grazie, complimenti, ciao.